cinghiali ore 3 ingrandisci ingrandisci ci vedono ancora? cinghiali ore 3 una bella famigliola oggi facciamo caccia e pesca quello per la via nostra per la via nostra e questo per la via nostra su cinghiali sei visto? su cinghiali questo viene da qua poi ci mettono i colleghi più che tocco prendi quanto ne so qua questo da qua lo prendi? non mi fregono proprio niente io non ci sono scantati uno, due, tre, cinque sono cinque sono pure tutte belle grosse non è che stanno i cuccioli io sì ci vediamo ho grande share le grazie le grazie la gara vi qui